ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi andremo a fare si vedete già il trucco degli occhi e già avete anche visto qual è il video ma oggi andremo a fare una base per provare un altro campioncino che mi hanno dato da sephora e questo è il clinique cn 18 allora per prima cosa vado a provare anche dei nuovi prodotti che stavo già iniziando a testare quindi li proveremo tutti in questo video andremo a mettere il sieroviso questo qui dei provenzali è la prima volta che lo utilizzo quindi non vi so dire forse bisogno aprirlo ok andremo a mettere questo siero e vediamo come come mi trovo perché la prima volta che applico questo questo prodotto sul viso volevo assolutamente provare questi prodotti e quindi meglio di questo video non c'è questo come vi stavo dicendo poco fa è un video per quanto riguarda la collaborazione ve la metterò poi qua sopra non mi ricordo se qua o qua per quanto riguarda la collaborazione che sto facendo con il gruppo di telegram quindi con fabiana e tutte le altre ragazze adesso andremo a mettere il contorno occhi idratante e andremo a mettere qua dicono che è molto molto idratante quindi lo voglio provare questo è un vi dico che che cos'è della della provenzale sono i provenzali bio ed è un contorno occhi idratante ad azione rigenerante all'olio di rosa mascheta ed è un affetto sguardo luminoso cosmetico biologico certificato dice che la sua piacevole consistenza ed il rapido assorbimento rende la pelle visibilmente più levigata tonica e compatta è dermatologicamente testato ed è 15 ml questa è tutta un'azione di quella della rosa moscheta ho voluto prendere tutto il set per provare tutti i prodotti e per farmi ovviamente un'idea direttamente della linea perché si certe volte proviamo alcuni prodotti per meglio anche utilizzare un combo di tutti diciamo i prodotti insieme oggi proveremo anche un fondotinta che mi hanno dato il campioncino che mi hanno dato il campioncino e quindi voglio vedere com'è questo prodotto adesso andremo a mettere sempre della linea dei provenzali la crema idratante questa già l'avevo provata perché mi serviva infatti la crema è quella più utilizzata perché io come creme ne utilizzo tantissimo proprio a me piacciono le creme e quindi avendo anche una pelle abbastanza secca io idrato tantissimo tantissimo la mia pelle proprio perché non voglio che o che mi spuntano diciamo delle screpolature sul viso o altri tipi di cose e quindi preferisco idratare sempre il mio viso se avete provato questi prodotti scrivetemi un commentino così saprò se sono dei buoni prodotti o no ditemi su perciò cosa ne pensate allora andiamo a mettere questo fondotinta della clinique vi ho detto che il cn 18 la colorazione è questa e adesso l'andremo a provare sul viso ovviamente io non vi so dire se è un colore giusto per me o la formulazione giusta per me perché questa è la prima volta che applico questo fondotinta vediamo ovviamente la mia applicazione sarà con la spugnetta anzi facciamo come l'altra volta un lato con la spugnetta un lato con il pennello utilizzo questo di revolution quindi faremo una parte con la spugnetta e una parte con il pennello lo tengo così me lo ricordo perché sennò può anche essere che mi dimentico sinceramente da questo lato già si può dire che è scomparso il fondotinta andiamo a prendere il pennello e proviamo io ne applico sempre poco alla volta perché a me i mascheroni non piacciono io non ho una pelle da come si dice da nascondere tante cose e quindi preferisco preferisco non utilizzare troppe cose sul viso troppe cose evidenti allora sinceramente c'è c'è questo fondotinta ciao pennello allora sì il fondotinta sì da questo lato lo vedo anche da questo che dire ma potrebbe potrebbe piacermi andiamo a fare la fronte e poi se c'è qualcosa da recuperare per quanto riguarda il viso a me sembra buono ora andremo a vederlo da da vicino devo dire che mi piace piace l'effetto non è abbastanza non è coprente assolutamente no non è coprente però mi piace questo effetto vedo non vedo perché io non ho molte discromie quindi automaticamente non mi interessa non mi interessa occuparmi troppo per quanto riguarda la base troppo come si dice troppo spessa perché io non ho delle cose da coprire quindi a me non piace una base troppo troppo pesante e devo dire che questa mi potrebbe anche piacere cliniche se non mi sbaglio è scontata vero nel senso con cioè che non non è come tutte le altre marche di sephora che non potete prendere con gli sconti che che li fate a fare se sconti io non lo so sinceramente questa sarà una polemica di quelle potenti perché io non concepisco questa cosa di fare degli sconti e poi però questi sconti non possono essere utilizzati su determinate marche da beauty fenty beauty o che che sia cioè che li fate a fare allora ste sconti cioè fatemi capire cioè io sta cosa sinceramente non la capisco comunque adesso andremo a prendere la cipria questa qui di tu fased la peach perfect perché la devo mettere sotto l'occhio e quindi la vado ad aprire quindi vi stavo dicendo che andremo a utilizzare la cipria questa qui della tu fased ne parlano tutti benissimo ovviamente anche giulia cova questa cipria veramente è fantastica fantastica io la sto provando da un giorno sinceramente avevo lasciato la pellicola di sopra proprio perché avevo paura che uscisse fuori ma mi secca sinceramente alzare ogni volta la la pellicolina e quindi l'abbiamo tolta allora adesso andrò a riprendere il video che stavo facendo poco fa quindi andrò a mettere blush cipria finisco diciamo questo makeup e ci vediamo alla fine con le considerazioni per quanto riguarda questo fondotinta allora sono ritornata sono stata a casa di mia mamma siamo andate a prendere il caffè infatti se noterete qui ho il segno degli occhiali perché io porto gli occhiali quindi non li metto avendo la ring light di fronte vi faccio anche vedere che vedete la ring light tramite tramite gli occhiali e quindi mi viene impossibile fare il video perché vedete diciamo riflessa negli occhiali quindi rimango senza ma col fatto che c'è il monitor qui davanti mi viene meglio allora se parliamo per quanto riguarda il fondotinta a me piace tantissimo veramente mi stra piace per me è uno un dieci e lode sinceramente perché mi piace la stesura lo stesso sia con il pennello questo qui della real techniques che con si real techniques lo stesso sia con il pennello della revolution sia con la spugnetta della real techniques mi è piaciuta tantissimo l'applicazione mi è piaciuto l'effetto che ha avuto la cipria sul mio viso sia sul contorno dell'occhio se non mi sbaglio no non ha lasciato niente ovviamente le pieghettine ce l'ho perché avendo anche una certetta abbiamo anche le pieghettine ma devo dire che mi è piaciuto tantissimo l'effetto non non fa stacco dalla pelle al collo è piaciuto molto 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 sì sì anche nel naso cioè non questo fondotinta mi stra piace devo dire che questo fondotinta mi piace tanto lo trovo adatto a una pelle matura come la mia e devo dire che è molto molto bello sì sì io devo dire che questo fondotinta è stato promosso quindi promuoviamo il fondotinta della clinique vi dico la mia colorazione la cn 18 quindi ottimo ottimo davvero sono rimasta molto molto contenta di questo campioncino quindi appena finirò questo campioncino sono sicura che lo acquisterò niente che dirvi ragazzi questi sono i miei capelli asciugati asciugati normalmente senza fono e senza niente ho fatto soltanto la frangetta perché io senza frangetta non mi ci vedo però domani farò i boccoli quindi vedrete altri video in questo cioè con un'acconciatura diversa che dirvi mi è piaciuto tantissimo questo video questa applicazione del fondotinta abbiamo provato anche un altro fondotinta ovviamente proverò gli altri sette 8 che avevo nelle nei pottini così perché me l'hanno dato la sephora e che dirvi di più io vi ringrazio per aver visto il video ditemi cosa ne pensate se l'avete o non l'avete se lo acquisterete oppure no e ovviamente scrivetemi un commentino bello brutto ma che sia educato io vi saluto vi mando un bellissimo bacio come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao